Mentre tutti sono concentrati sul coronavirus, lo Stato e l'opinione pubblica sembrano dimenticarsi delle altre malattie gravi che segnano comunque numeri allarmanti, creando così malati di serie A e malati di serie B. Molti paesi infatti, tra cui il Regno Unito e l'Italia, hanno deciso di sospendere molte terapie essenziali per la vita di alcuni pazienti, come la chemio, provocando già qualche decesso. La giustificazione dell'autorità è quella che alcune terapie darebbero immunodepressioni e quindi sarebbero pericolose in caso si contragghe al coronavirus, ma se fosse così dovrebbero essere sospese ogni anno, vista la quantità di virus altamente infettivi presenti nella vita quotidiana. La Regione Lombardia ha sospeso i ricoveri e le attività ambulatoriali, ma non tutti gli oncologi sono d'accordo, come quelli sardi che chiedono con dei comunicati il ripristino delle attività. Anche in Gran Bretagna alcuni oncologi lanciano l'allarme, affermando che i malati di cancro moriranno prima del previsto. Negli ospedali oncologici calabresi si parla di reparti svuotati, staff ridotti all'osso e farmaci mancanti. Il problema inizia ad essere grave anche in Cina, mentre a Padova le cure sono state già negate ad una bambina di tre anni.